ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al mido multiford tv mido multiford tv senza big date perché io avevo già recensito un modello di questa famiglia quello da 40 mm che avevo portato sul canale e aveva la big date cioè la gran data cioè la data divisa in due finestre indipendenti in questo caso invece abbiamo una finestra con la data classica tradizionale ma ciò che è di differente rispetto a quello che avevo recensito in passato è proprio il diametro cassa da 40 qua si passa a 35 ed è una delle rare volte che io porto lo stesso modello sul canale anche in misura differente no solitamente non le faccio la recensione del modello grande e piccolo c'è poco da aggiungere c'è poco da dire in questo caso invece ho deciso di portarlo proprio perché quando l'ho visto mi ha dato la sensazione di essere un orologio completamente differente proprio le dimensioni lo spostano in un'altra visuale sotto un'altra ottica lo possiamo vedere un pochino più vintage un pochino più retro ed è anche un pochino più unisex diciamo adatto sia alle signorine che ai signorini perché esiste in varie configurazioni c'è il quadrante blu che ho scelto io chiaramente da portare sul canale poi c'è il quadrante nero e poi ci sono anche delle versioni un pochino più raffanate come dice mio amico piero per persone raffinate sono quelle che siano essi uomini o donne questo non ci interessa ma è anche anche il blu e il nero sono da signora per l'amor del cielo ognuno scelga un po i colori e le configurazioni che gli piacciono di più l'orologio mi è stato messo a disposizione dall'amico giacomo avrete visto nell'ultimo video il negozio che era lì che è concessionario del marchio e parte un ufficiale del canale sto parlando chiaramente della gioielleria pasquali domenici di viareggio voi li contattate e loro hanno questi orologi qua a disposizione da vendere come fosse no come se non ci fossero domani e vi fanno anche un trattamento di favore basta che fate il mio nome no ora detto questo la curiosità di scoprire qual è il responso al polso di questo multifort tv è tanta ma prima di girare la camera diamo un'occhiatella all'orologio del giorno che oggi è questo mio bellissimo viller vetta jumbo star solo tempo quadrante tabacco ruggine insomma questo colore un po strano qua che vedete mattone mi piace anche mattone come colore baghe interna con la corona d'ore 10 la seconda corona calibro g100 realizzato da le jupere che è una manufattura svizzera che si occupa di prendere il calibro 90 15 di miota e rivoluzionarlo decorarlo e tirarlo fuori come swissmate ci stanno anche queste cose qua queste situazioni qua adesso giriamo la camera diamo lo sguardo a questo bellissimo multifort tv e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali diamo uno sguardo alle proporzioni e per farlo occorre enunciare le misurazioni strumentali diametro cassa 35 mm spessore 9.3 ingombro trasversale al polso 41.5 millimetri entra la seansa da 18 un orologio piccolo senza ombra di dubbio compatto elegante e con reminescenze retro un po come certi orologi vintage dalle forme squadrate che tanto andavano di moda negli anni 70 vederselo al polso specie se da 19 centimetri come il mio può suscitare qualche dubbio ma ritengo sia solamente una questione di abitudine di come si è a vezzi ad indossare un orologio sì perché la sua effazione alla consuetudine può portare a decidere di indossare sempre orologi grandi o sempre orologi piccoli e nel momento in cui si prova altro si rimane interdetti occorre passare oltre questo ostacolo mentale personalmente lo ritengo attraente piacevole da guardare e foriero di eleganza formale al di là della sua evidente sportività sì perché stiamo parlando di un segnatempo con evidenti tratti stilistici volti alla dinamicità della vita quotidiana spallette di protezione corona lunetta mascolina e aspetto del quadrante sobrio non dimentichiamo poi 100 metri di impermeabilità chiaramente propedeutici ad un utilizzo quotidiano senza pensieri vi sono però delle peculiarità che lo ingentiliscono e lo rendono apprezzabile anche da chi cerca qualcosa di più raffinato in primis lo spessore poco al di sopra dei 9 mm veramente ragguardevole nella sua esiguità e per quanto riesca ad apparire filante naturalmente la corretta proporzione rispetto alle misure generali un lag to lag di soli 41 mm ha bisogno di uno spessore relativamente congruo altrimenti si rischierebbe di trovarsi una sorta di tombino al polso in secondo luogo tra le caratteristiche ingenti lenti vi possiamo includere le finiture superficiali troviamo infatti una alternanza di superfici lucide e spazzolate che vedono l'ergonomia come fulcro concettuale possiamo infatti notare come manchi totalmente la smussatura tra lato e dorso al fine di rendere più squadrata la forma mentre ben presente nella parte inferiore a contatto con il polso allo stesso modo si alternano sulla lunetta quadrangolare che è formata da tre piani inclinati con quello orizzontale satinato longitudinalmente una lavorazione che ritengo apprezzabile e che trova il suo culmine nel dot ad ore 12 incassato in negativo ho già accennato alle spallette di protezione ma è bene rimarcare il loro ruolo a livello stilistico una tondeggiante sagomatura che mira a riprendere sia gli angoli smussati della lunetta sia gli spigoli accesi presenti sul dorso ansa occorre poi menzionare anche il fondello che in questo caso fa parte di quegli elementi che connotano lo stile sì perché l'esiguo spessore generale è da considerarsi anche figlio del fatto che lo troviamo a filo cassa senza sporgenze e qui possiamo notare come sia fissato tramite viti singole e non tramite avvitamento integrale una soluzione che avevamo già visto sull'oceanstar da 39 mm e che pare quindi non inficiare il grado di impermeabilità del sistema in entrambi i casi ci restituisce uno spessore generale inferiore alla media e infatti come nell'oceanstar il calibro che anima il tutto è proprio il calibro 72 ossia il discendente dell'età 28 92 movimento di maggior pregio e più sottile rispetto al solito calibro 80 derivato dal 28 24 si tratta di un meccanismo che solitamente è destinato ad equipaggiare il onjin ma che già da qualche tempo viene utilizzato in alcuni modelli di mido a parer mio si tratta di un valore aggiunto non indifferente tra le altre cose non è visibile all'esterno in quanto il fondello è in solido acciaio e non trasparente anche questo ritengo sia un punticino a favore dell'orologio lo rende meno mainstream ma ruotiamo l'orologio e diamo lo sguardo al quadrante i primi aggettivi che mi balzano la mente sono pulito equilibrato e classico chiaramente il primo elemento a colpire la nostra attenzione è sicuramente il fondo una lavorazione a piccoli solchi orizzontali che sono sì paralleli ma non identici per profondità questo mix gli consente di riflettere la luce in maniera differente a seconda dell'angolazione andando a restituirci una colorazione che passa dal blu notte al grigio passando per l'azzurro il tutto condito da un forte accento degradé che lo vede costantemente più scuro ai lati rispetto al centro ogni elemento è posizionato in modo e maniera da non infastidire la visuale le manie di protagonismo non sono richieste di conseguenza il datario posto ad ore 12 si mimetizza alla perfezione con gli indici tanto da apparire esso stesso come l'indice deputato ad identificare ore 12 questo è possibile grazie al diametro cassa ridotto in quanto il disco data riesce a posizionarsi esattamente al bordo quadrante e non come a volte capita quasi al centro del quadrante stesso occorre segnalare che rispetto al modello da 40 millimetri va a perdere la complicazione grandata ossia le due finestre indipendenti una per ogni cifra poco male se il tutto è finalizzato ad un contenimento della dimensioni e a guadagnarne è lo stile se poi osserviamo più attentamente scopriamo che si tratta di indici in negativo il fondo blu presenta dei recessi che mettono in mostra il piano inferiore bianco ricoperto di superluminova altro elemento quest'ultimo che rafforza lo spirito sportivo dell'orologio superluminova che in assenza di luce compare anche sulle sfere a bastone andando così a delineare un dial perfettamente leggibile al buio rimane invece inerte il dot incassato sulla lunetta fattore che trasforma il suo ruolo da elemento funzionale ad accessorio ornamentale chiudiamo la panoramica andando a disquisire a riguardo del bracciale un design che non si eleva a paladino dell'originalità ma che ritengo perfettamente in stile con il resto dell'orologio presenta infatti le classiche maglie ad h unite dal segmento centrale lucido e mai come in questo caso mi sento di approvare l'acciaio lucidato della parte centrale qualche pregevole scintillio di richiamo alla lunetta era necessario sportività ed eleganza devono essere mixate con il giusto peso maglie che sono tenute in sede dai classici pin a pressione non fatevi ingannare dal taglio presente è puramente decorativo per quanto riguarda la chiusura ci troviamo di fronte alla doppia deployant a farfalla soluzione obbligata dallo stile generale e sulla quale debbo convenire una scatoletta non sarebbe stata in linea con lo spirito dell'orologio cerniere interne ben dimensionate lucidate e che presentano la parte interna piena non scheletrata soluzione insolita che mi è già capitato di vedere possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali la cerniera interna della chiusura a farfalla così piena no l'ho già vista in altri orologi non mi ricordo quali è una particolarità un po un po originale però mi dà un po come fosse l'idea di non finito si sono dimenticati di staccare il pezzo centrale mi dà questa idea qua però ma è una soluzione di design che può anche piacere poi tanto si chiude va al polso chi la vede e chi non la vede mi sono dimenticato di aggiungere che il bracciale alle spring bars a sgancio rapido quindi è possibile staccarle con un semplice click e montarci il cinturino ora non mi è dato sapere non mi ricordo se esiste il cinturino sicuramente si la versione cinturino di questo orologio però secondo me con un braccio un cinturino in gomma o in pelle o quello che può essere va un po a cambiare lo stile dell'orologio io preferisco braccialato e anche se non ho mai provato quello che cinturino in generale preferisco i braccialati e secondo me un 35 mm così compatto è meglio che abbia il bracciale per me perché sul mio polso da 35 da 19 cm è al limite faccio fatica io pur essendo un amante dell'orologico di diametro contenuto in me vintage longin ho un longin cioccolatone che è 37 è capito 35 già un pochino meno siamo al limite proprio quando uno si vuole dare quel tono da orologio vintage retro poi se avete il polso da 17 da 16 da 15 addirittura vi può sembrare grande questo avete il polso la signorina non è che ci si può far tanto siete svantaggiati e quindi questo qua è l'orologio perfetto per voi altri punti deboli sinceramente io non ne ho non ne ho riscontrati in questo caso la maglia luce centrale la trovo appropriata mi piace fa il pandan con tutte le lucidature che sono sulla corona e sulla lunetta e quindi fa quello scintillio che un orologino così deve fare scintillio che però non lo rende solamente elegante no al polso perché l'abbiamo visto è sportivo questo orologio sportivo c'ha la luminescenza 100 metri di impermeabilità spalletti di protezione è veramente un orologio da poter utilizzare tutti i giorni anche se va a graffiarsi la parte lucida pace bene con un po di cap code fate così e va via il graffietto le airlines come si suol dire se poi invece lo incidete allora lì sono volatili per diabetici e sono affari vostri come direbbe no il presentatore la va bene poi forse forse la finitura del quadrante in certe situazioni potrebbe sembrare un pochino artificiale voglio dire non è così naturale questa questa lavorazione da dire insomma un po plasticosa a volte però è anche il suo bello nel senso che va a creare quei giochi di luce che con gli indici scavati poi ti dà anche quella tridimensionalità che è apprezzabile tanto tanto al polso semplice sfere a bastone bella la lunetta così lavorata satinata che ci dà quel tocco di pregio in più e il dot ad ore 12 che non è funzionale perché non si illumina però è un bel vedere cioè va a spezzare la monotonia di una lunetta piatta con un bel una perla incastonata all'interno ma secondo me ci piace tanto poi per il resto da apprezzare il fondello chiuso che una volta tanto guarda un po c'è ce l'hanno messo e nonostante dentro sì ci sia anche un calibro che si potrebbe anche osservare tra virgolette perché è il punto forte di questo orologio il calibro il 72 così lo denomina mido che altri non è che letta ci all'età 31 l'età 31 quello che deriva dal 28 92 di ronj no quindi è ci piace tanto per me promosso chiaramente non è per tutti e ragazzi vi ripeto se avete il polso grande come il mio vista al limite dovete decidere da quale parte stare se avete un polso inferiore al mio io suggerisco il 35 piuttosto che 40 ebbene sì secondo me il 40 è un pochino a parte che io avevo provato il 40 mm quello con dedicato al monoscopio eccolo lì era veramente veramente particolare e secondo me così doveva essere da 40 mm bello grande con il suo centurino in pelle mi sembra giallo o arancione non mi ricordo era veramente vistoso e quello doveva essere così se invece prendete una versione normale secondo me dal 35 può essere adatta per tutti quei pulsi dai 18 in giù diciamo dai 17 5 in giù facciamo così è perfetto proprio quel quel sapore di classe di eleganza formale sportività orologio veramente da indossare come cavolo si vuole io mi sembra di aver detto tutto ragazzi io poi per il resto fate vobis io gli ingredienti ve li dico le fotografie ve le faccio vedere le riprese le macro i dettagli tecnici la spiegazione ve l'ho letto poi a un certo punto siete grandi e vaccinati e dovete decidere ah sì questo qua l'orologio che fa per me ah no questo non è l'orologio che fa per me però siccome non siete voi a decidere perché di solito decide per voi quella infingarda scimmietta che avete sulla spalla è il rischio di fare sempre degli acquisti così c'è quindi pensateci bene fate un meeting voi e la vostra scimmietta guardatevi a quattro occhi e poi decidete se è un orologio da poter avere in collezione o meno boom mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale